Ciao, un video un po' diverso dal solito perché vi volevo parlare di candele non vi parlerò delle Yankee Candle ma di alcune candele che ho scoperto da poco le candele in questione sono quelle della Earth and Home, questo è il volantino queste candele io le ho acquistate nel negozio, mia cognata ha un negozio di complementi d'arredo e vende queste candele qui, sono candele ecosostenibili, sono fatte con cera di soia questo è il volantino nel senso che dietro c'è tutta la spiegazione di come utilizzarle perché non vanno utilizzate come le candele normali, nel senso, qui dice ecco alcune informazioni per far sì che le candele abbiano un aspetto favoloso il più a lungo possibile la fragranza che rilascia una candela accesa deriva dalla cera sciolta e non dalla fiamma è importante che la cera sciolta l'aggiunga le pareti del vasetto prima di spegnere la candela ciò previene la formazione di un foro al centro della candela, garantisce l'utilizzo al massimo della cera e che la fragranza si espanda al meglio spuntare regolarmente lo stoppino a 5-10 mm allunga la durata della candela e ne assicura un'accensione più pulita c'è tutta la spiegazione, ci sono tantissime profumazioni io ne ho due, adesso per il momento ho preso solo queste due e sono queste qui queste diciamo sono le jar piccole perché a differenza delle Yankee Candle le Yankee Candle hanno la jar piccola, media e grande queste come potete vedere hanno la jar piccola o la jar grande oppure ci sono i votivi i votivi sono venduti comunque sempre all'interno della loro confezione per poterli accendere all'interno del bicchierino questa è la mia preferita e si chiama Vero Incanto c'è scritto un profumo che suscita battiti d'amore e romanticismo con un tocco di dolcezza e passione è una candela che sa praticamente di ha un odore leggerissimo di rosa ma sa abbastanza di pulito l'unico consiglio che posso dare se magari qualcuna le vuole utilizzare o le vuole acquistare insomma è che la prima volta le dovete tenere accese almeno queste piccole qui perché io le ho entrambi piccole almeno un'ora bisogna tenerle accese per far sì che si sciolga comunque la prima parte della cera e vada a come succede qui vada ad arrivare comunque all'interno di tutto il bicchiere e poi ogni volta che le riaccendete il profumo si sente sempre sono carine perché hanno comunque tutto il tappino fatto così e queste io ora non ho il prezzo più su nessuna mi sembra vengano comunque sui 10 euro le jar piccole i prezzi sono gli stessi delle Yankee Candle perché la jar quella grande viene sui 27-28 euro come le Yankee questa è quella che vi dice ovvero incanto quest'altra invece è profumo di lino rinfrescante, limpido e puro avvolgete i vostri sensi nel morbido profumo di lenzuola fresca e ribucato e soffice asciugamani effettivamente questa sa di pulito anche questa io adesso le utilizzo una ce l'ho in bagno e una ce l'ho qui nella sala e questa di pulito la utilizzo comunque qui nella sala questa la tengo in bagno e anche questa lo stesso discorso la prima volta che le accendete le dovete tenere accese almeno un'ora ma vi avvolgeranno di profumo veramente profumano tantissimo io ho anche le Yankee a casa non è che utilizzo solo queste però sono diciamo sullo stesso livello l'unica differenza è il primo utilizzo che una Yankee Candle che sia una jar piccola o una jar grande comunque la posso tenere accesa anche 10 minuti e profuma da subito queste ci mettono più per profumare nel senso che se non fate questo passaggio di tenerle un pochino più accese e fate sciogliere un pochino di più la cera non profumano poi cioè se non utilizzate questa accortezza prima poi l'utilizzo della candela durante l'utilizzo si sentirà molto molto poco il profumo ma utilizzandole nel modo giusto profumano comunque mi faceva piacere parlarvene perché secondo me sono delle candele comunque anche queste molto interessanti e la differenza con le altre è che queste sono fatte con cera di soia secondo me sono una cosa che si può tranquillamente provare non è nessun tipo di pubblicità perché io nonostante l'ho presa la mia cognata l'ho pagata quindi sono prodotti che ho acquistato io e a me piacciono quindi adesso per i saldi perché so che lei metterà alcune alcune in saldo alcune profumazioni ne andrò a prendere altre magari voglio provare la jar grande che ancora non ho provato niente ragazzi questo era un piccolo video solo per parlarvi di queste candele fatemi sapere se magari voi le avete mai viste oppure le avete utilizzate e ci vediamo al prossimo video ciao ciao